La partita è stata molto equilibrata, forse è il momento migliore nostro in cui ha messo in parte di stessimo meglio, fischiamente, si poteva provare qualcosa anche con i cambi, quindi è arrivata un po' questa ripartenza, l'ultima disattenzione e siamo stati puniti. È una partita molto tattica, molto equilibrata, che poteva essere risolta da una parte o dall'altra e è stata a favore della Roma. La Juventus è un po' mappolissima rispetto a quella che siamo abituati a vedere. La Juventus penso che abbia giocato la partita come l'aveva preparata. La Juventus è stata un onore che ho visto grandissime parate, visto rai io, da un punto di vista che non l'avevo preparata. Siamo stati molto bravi, molto accorti, magari nella gestione palla potevamo essere più bravi. Il campionato sarà un'altra cosa. Adesso c'è il campionato, la Roma va avanti in Coppa Italia e complimenti alla Roma. Grazie. Grazie.